Presso la sede della Società Operaia di Muto Soccorso a Palazzo Gregoris a Pordenone si è tenuta la presentazione della mostra Artisti per il Domani, allestita in collaborazione con il Comune di Pordenone e la Biblioteca Civica. L'esposizione, che sarà inaugurata sabato 24 settembre alle 17.30, intende dare visibilità ai giovani artisti che altrimenti non verrebbero conosciuti. Per questa mostra sono state selezionate le opere di 15 ragazzi che si esprimono attraverso scultura, pittura, arte digitale e videoarte. Questa mostra è una delle dimostrazioni che i giovani hanno enormi potenzialità inespresse. Noi rischiamo di parlare di loro solo in senso negativo quando si parla di bullismo, solo quando si parla di baby gang e diamo così un'immagine assolutamente parziale dei giovani. Invece c'è tanta chiaratività che va messa in circolo. Dobbiamo dare spazio loro, ma non solo con le parole, con i fatti. E qui lo spazio per loro c'è. È una delle iniziative che noi stiamo facendo con i giovani per dare appunto loro spazio e fare in modo che siano protagonisti della città e della vita culturale. Un ultimo elemento, Palazzo Gregoris, potrebbe ospitare almeno una volta all'anno proprio una mostra dei giovani e questo è il nostro impegno assieme alla società operaia. La storia operaia è entusiasta di questo nuovo progetto e ha messo a disposizione il centro culturale di Palazzo Gregoris per gli artisti per il domani. È un'iniziativa che durerà un mesetto e io mi auguro che abbia successo, visto l'impegno dell'amministrazione comunale della Biblioteca Civica e anche di quattro giovani che ho conosciuto durante questo ultimo periodo che ci sono andati da fare in una maniera veramente molto bella e molto generosa e quindi meritano sicuramente un ottimo successo. Speriamo che la mostra possa attirare più gente possibile e coinvolgere persone di tutte le età. In questa mostra vogliamo mostrare appunto quello che i giovani vogliono raccontare per quanto riguarda i loro sentimenti, i loro pensieri, le loro angosce e tutto ciò che riguarda comunque il mondo dell'inconscio. Ci sono in esposizione 15 artisti, del Triveneto principalmente, però anche di altre zone dell'Italia. Io invito tutti quanti a venire a vederci perché ci abbiamo messo tantissimo tempo e tantissimo impegno e spero che possa piacere, che tutti possano rispecchiarsi in quello che vedono. Grazie. La mostra sarà aperta dal 24 settembre al 24 ottobre con i seguenti orari giovedì e venerdì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno e dalle 15 alle 18. L'ingresso è gratuito.